Procediamo adesso con un nuovo laboratorio, Nmap Discovery, sempre della sezione networking che praticamente ci chiede di utilizzare Nmap per scoprire dove è locato un SSH server e quale porta utilizza il servizio, il protocollo SSH. Per cui quello che dobbiamo fare innanzitutto è aprire le istruzioni sul file che vi ho, nell'archivio compresso che vi ho mostrato in precedenza, nel precedente video. Allora il titolo è Usare Nmap per Network Discovery, per scoprire degli indirizzi di rete. Allora in questo laboratorio esploreremo l'utilizzo di Nmap per scoprire computer e servizi nella rete. Ovviamente il laboratorio si avvia con il comando LabTainer e il nome del laboratorio e il task, il compito di effettuare è questo. Il tuo capo Rander vuole prepararti per un meeting di un progetto dove you have not work, dove non hai lavorato da mesi. Tu hai un summer, un file riepilogativo chiamato questo qui. Tu hai un file in questo server a cui precedentemente potevi accedere tramite SSH. Comunque tu non ti ricordi l'indirizzo IP di questo server e ti sei dimenticato anche la porta che lo staff IT ha utilizzato per l'SSH su questo server. Tu sai solo che la porta è compresa tra 2000 e 3000. The one thing you must... Ok, la password utilizzata è la stessa utilizzata nei laboratori, quindi sarà Ubuntu. You are left... Ok, quindi dobbiamo utilizzare Nmap per due motivi. Uno per scoprire l'IP address e l'altro motivo è per capire la porta utilizzata dal protocollo SSH che probabilmente non sarà quella standard. E a questo punto dobbiamo quindi procedere. Quindi dobbiamo fare praticamente due cose. Network discovery per scoprire l'indirizzo IP del server e poi scoprire a quale servizio è stato associato il protocollo, a quale porta è stato associato il servizio SSH. Per cui andiamo sulla macchina virtuale e avviamo il laboratorio. Quindi lab trainers e nmap-discovery. Invio, lab named, ho sbagliato a scrivere, ok, nmap, quindi nmap e invio. Please enter your email address nel caso volessimo inviare i risultati, noi non ci interessa, quindi yes, lasciamolo vuoto. E avviamo il laboratorio. Press enter to start the lab, enter. E ok. Qui ci sono ripilogate nuovamente le istruzioni che abbiamo già visto. Noi chiudiamo perché le abbiamo già lette. E qui abbiamo il computer da cui dovremo far partire le scansioni nmap. Prima di tutto dobbiamo effettuare un host discovery. L'host discovery si utilizza con il comando "-sp", quindi nmap. Innanzitutto guardiamo su che rete siamo, ifconfig. siamo sulla rete 172.25.02, per cui possiamo fare un nmap, meno s, meno sp, di questa rete, della rete 172.25.0.0, barra, scusate la tastiera in inglese, barra 24. Invio. Adesso sta avviando nmap, e come possiamo osservare abbiamo trovato quest'host. Questo siamo noi. E questo è l'host trovato, 172.25.05, quindi probabilmente sarà il ssh server a cui ci stavamo riferendo. Primo step completato. Adesso dobbiamo capire la porta su cui è stato associato il protocollo ssh, per cui facciamo nmap, meno, meno p, 2000, barra 3000, che è il range delle porte su cui era associato, indirizzo ip dell'SSH server, 172.25.0.5. Non credo servi altro, invio. E come possiamo osservare è stato trovato su questa porta un servizio. Andiamo a vedere se è effettivamente dove hanno locato l'SSH server, per cui la porta è la 27.05, il comando da utilizzare quindi è ssh, meno p, specificare la porta, 27.05, e l'indirizzo è p, per cui 172.25.0.5. Vediamo se funziona. Invio. Ci viene chiesta una password, Ubuntu, e come possiamo vedere siamo riusciti ad accedere in SSH al server ifconfig e siamo sull'172.25.0.5. Esercizio terminato, per cui semplicemente possiamo stoppare il laboratorio. Andiamo sul laboratorio, digitiamo il comando stoplab, nmap, meno discovery. E ok, automaticamente, ora, sì, in tempo qualche secondo si stopperà il laboratorio. Ok, è stato stoppato.